bello raga bentornati in questo nuovo video e benvenuto perché nuovo nel canale ragazzi oggi jokers arancioni verdi e viola ragazzi jokers per tutti col nuovo metodo del creatore quindi ci scegliamo ragazzi l'unico outfit che vogliamo tenerci perché vi ricordo facendo questo glitch si cancellano tutti gli altri outfit quindi iniziamo con il video una volta vi siete salvati l'unico outfit che vi rimarrà raga andate su la selezione del personaggio ciò perché perché dovremo andare a creare il secondo pg femmina perché stiamo facendo i jokers sul maschio ragazzi quindi a questo punto semplicemente andiamo a creare il secondo personaggio femmina dopodiché andremo online ragazzi se a qualcuno non gli dà la schermata della selezione del personaggio bisogna sbaggarlo perché rockstar ha rotto il gioco col nuovo aggiornamento semplicemente andare in storia e creare il secondo pg dalla storia a quel punto tornare sul primo pg e vedrete si spagherà tutto quanto comunque ragazzi una volta che siamo spawnati online con il secondo personaggio dovremo andare a fare questi outfit una volta che spawnerete raga come potete vedere non c'è negozio di outfit come al solito cambiare la sessione quindi online trova nuova sessione ragazzi solo a inviti e cambiate la lobby quando avete cambiato la lobby avrete di nuovo la possibilità di entrare dentro i negozietti quindi a questo punto ragazzi una volta cambiata la sessione siamo online andiamo al negozio di vestiti per preparare i tre outfit che porteranno i tre jokers ragazzi andiamo dalla nostra amica dal bancone ragazzi e andiamo a comprare nel terzo quarto e quinto slot se non erro i babbi da natale il cattivo lo sporco e il sucido sti tre completi ragazzi e ci porteranno rosso verde e viola mi pare e scusatemi arancione verde e viola i jokers quindi ne andiamo a salvare nel terzo quarto e quinto slot l'importante ragazzi è che non salvate nel primo e secondo perché il primo e il secondo sono buggati quindi una volta che avete salvato dal terzo in giù possiamo semplicemente fare il salvataggio e dopodiché ci dovremmo uccidere a questo punto ragazzi una volta che ci uccidiamo tramite il menu interazione semplicemente dovremmo andare al creatore ragazzi vi ricordo che questo è il metodo per next gen quindi ci servirà un amico che ci dà una mano e una volta che siamo al creatore ragazzi semplicemente andiamo su crea una gara clicchiamo su tutorial accettiamo l'allerta è appena possibile clicchiamo il menu di pausa dopodiché ragazzi andiamo alla selezione dei personaggi a questo punto una volta che siamo alla selezione dei personaggi dovremo andare a cancellare ragazzi il secondo pg femmina non dovete sbagliare perché se no se sbagliate vi sparate nelle palle quindi se sbagliate ragazzi avete perso il vostro personaggio quindi state attenti dovete cancellare quello di destra con il cartello tirato su ragazzi vedete che c'è il cartello tirato su scrivete la parola elimina e una volta cancellato il secondo pg femmina attenzione qua perché l'after patch per next gen è qua in questa schermata dovremmo farci mandare un invito in mira differente ragazzi da un nostro amico non usate anawak perché non funziona quindi una volta che siamo in questa schermata il nostro amico in mira differente ci ha mandato l'invito ragazzi lo accettiamo si baggerà non entreremo nella lobby e ci manderà in storie ragazzi non vi preoccupate è normale quindi un invito in mira diversa vi manderà in storia una volta che siamo in storia semplicemente torniamo online e il gioco sarà fatto ragazzi andiamo a vedere nei nostri outfit andiamo sui completi salvati ragazzi e come potete vedere sui completi salvati andiamo sui nostri e sbada bam raga prima di tutto salviamo il nostro outfit l'unico che ci rimane addosso nell'ultimo slot poi saliamo su ragazzi andiamo sui completi salvati andiamo sui nostri e troveremo i tre jokers viola arancioni e verdi ragazzi jokers bellissimi outfit bellissimi giacche bellissime ditemi cosa ne pensate come al solito ragazzi ringraziate il grix perché io sotto le feste non ho tutto suo tempo per fare queste clip e il nostro socio le fa per noi grazie socio grazie ragazzi auguri di buon natale e felice anno nuovo in anticipo me le foto bella regà